Opa, Dio, Carlo, Portasino Roma, a giugno noi vogliamo andare in Germania, vogliamo fare il torneo a Monaco, e mamme a casa, i genitori a casa, e noi una bella birrozza. E' terminato l'allenamento dei primi calci di mister Gabriele Di Felice, il nostro responsabile, o meglio coordinatore dell'area tecnica, adesso si vanno a cambiare i ragazzini, un bel pomeriggio di sole, temperatura mite, i genitori aspettano i loro pargoletti, ecco da quest'altro lato c'è il gruppo dei pulcini di mister Giulio Massimini, stanno facendo una partitella fra di loro. Qua è un gruppo, è un gruppo numeroso, qua c'è un altro gruppo sempre di pulcini, c'è mister, ci dovrebbe stare mister Simone l'ha in pronto seduto. Ecco il gruppo di pulcini, Hanno cominciato l'allenamento più tardi, e ovviamente termineranno più tardi. Siete pulcini voi? Sì! Bravi!